Ciao da Giorgio Patrizzi di BinariaFacile.it, un brevissimo video, vi faccio vedere l'analisi tecnica sulla coppia GBP-CHF sul time frame M30 di oggi, questo è l'investimento che andava fatto oggi, allora come potete vedere qui c'è un livello tracciato su questo punto dove ci sono tutti questi rimbalzi, vedete il prezzo arriva qui, non riesce a rompere, rimbalza, scende, rimbalza, scende, rimbalza, scende, a un certo punto crolla, scende giù, fa questa parabola, sale, scende, a un certo punto sale su, rompe, rompe questo livello, questo livello qui, quando scende, testa con la candela rossa questo livello e in questo punto bisognava entrare per un call, ok? E questo è il time frame M30, si poteva entrare anche sul time frame, un attimo solo, scusate, sul time frame, aspetta un attimo, vediamo un po' che non lo sto cercando, su M15, ok? Vedete? Anche qui stesso discorso di prima, guardate questo livello tracciato su questi punti qui, il prezzo rimbalza, 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 queste sono le freccette che vi indicano appunto il livello forte, lunga parabola, lunga parabola, a un certo punto rottura qui, scende, tocca e qui bisognava entrare per un call, ok? Questi sono i due investimenti che andavano fatti oggi, io vi saluto e al prossimo video!